Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archi vi parla, è finalmente uscito l'update per quanto riguarda Black Ops Cold War, il preload per quanto riguarda l'update della Season 2, ma già con questo update hanno cambiato veramente tante tante cose per cui il gioco è stato modificato, il menu, state aggiunte le sfide, le informazioni e tanto altro, tutto quanto in preparazione per tutti i contenuti che vedremo da domattina circa alle 6 del mattino per quanto riguarda la Season 2 che appunto partirà al 100%. Volevo già far uscire in anticipo qualche altro video per tutte quante le news e tante informazioni specialmente del Battle Pass che sono uscite, ma un'altra cosa invece molto più interessante è successa, soltanto al momento per i giocatori di console purtroppo non su PC si può avviare offline Black Ops Cold War e giocare già fin da adesso la moneta zombie Outbreak o Epidemia in italiano. Questa cosa giocando offline non vi permette di sbloccare né tenere praticamente nessun oggetto che andete a raccogliere che sia informazioni, cristalli e qualunque altra cosa ed essendo offline non avete la maggior parte dei vostri potenziamenti, specialmente per perk, potenziamenti da campo e tutte queste piccole cose. Ho comunque fatto una partita ad Outbreak giusto per provarla, però appunto non posso sbloccare niente, quindi penso che farò giusto qualche altra partita per capire il funzionamento e vedere tutto quanto, ma secondo me appunto è soltanto qualcosa di un piccolo anticipo, aspetto tranquillamente domattina per giocare come si deve con tutti i miei oggetti e tenermi tutto quello che sblocco. Per chi volesse sapere precisamente come ho fatto ad avviare il gioco offline e giocare, penso che il funzionamento di Xbox sia lo stesso di PlayStation, io ho semplicemente avviato il gioco, poi sono andato offline dal menu principale che è col tasto X o penso quadrato, dopodiché ho proprio disconnesso la console da internet andando nelle impostazioni, ma penso che anche tipo staccare il cavo funzioni, dopodiché ho riavviato il gioco, sono direttamente andato offline e a quel punto avevo tutto quanto bello accessibile, quindi potevo giocare Epidemia sulle tre mappe al momento disponibili, che sono come detto in precedenza le mappe di bomba sporca. Tra poco uscirà sicuramente un mio primissimo video gameplay in cui ho giocato una partita di circa 20 minuti in singolo appunto offline, perché non si può praticamente in nessun modo giocare in co-op, essendo soltanto in singolo anche se teoricamente in locale si potrebbe fare qualcosa in schermo condiviso, ma non penso che sia comunque la scelta migliore perché al momento ha dei piccoli problemi come modalità, sono sicuro che nelle prossime 24 ore, quando partirà la season, tutto quanto verrà sistemato, ci sarà la pace definitiva. Aspettate quindi questo prossimo video per tutte quante le informazioni, o quantomeno la maggior parte di informazioni e opinioni chiaramente iniziali per quello che è Epidemia soltanto offline, spero che questo piccolo video un attimo informativo vi sia piaciuto e vi possa essere utile per fare giusto una partita a Epidemia in anticipo. Come sempre trovate in descrizione tutti quanti i miei social, noi ci vediamo a un prossimo video. Un abbraccio. Ciao.